Primi giorni per il bike sharing, dopo l'attivazione del bike sharing, qual è un primo bilancio? Il bilancio è estremamente positivo perché il servizio è partito subito molto bene, tant'è che già da lunedì 22, anche se ci sono state delle polemiche sulla stampa, lunedì 22 alle ore 14 è partito il sito del Comune di Citecchia sul sito www.biciincittà e quindi è stata possibile attivare la registrazione. Già da venerdì abbiamo incominciato la consegna delle prime tessere con Lucchetto all'Ufficio Urp, l'Ufficio di relazioni con il pubblico che sta al Palazzo del Pincio perché abbiamo deciso che appunto fosse quello il luogo importante dove poter consegnare le tessere. Quindi registrando sul sito www.biciincittà nel Comune di Citecchia vengono prelevate inizialmente 28 euro perché naturalmente sono 3 euro di spedizione, poi se la carta si viene contattati dalla società Bici in Città la quale dice se la carta la vuole per posta o la vuole ritirare al Comune. Se la ritira al Comune le 3 euro vengono riaccreditate nel sistema di pagamento, quindi se è fatto con la carta di credito vengono inserite una carta di credito. Quindi o si ritira qui oppure si aspetta il kit di attivazione che arrivi a casa, che dovrebbe arrivare intorno ai 3 giorni, 4 giorni, i tempi di spedizione poi insomma questo non lo so quando è che avviene oppure si ritira al Comune. Comunque la Civita Vecchia ha dato un ottimo segnale e io ho visto le biciclette nel weekend che circolavano e le biciclette mi sembra che non siano state maltrattate, quindi siano a posto, tranne 2-3 biciclette che non vanno in carica ma che il tecnico questa mattina è stato allertato e sta predisponendo appunto i primi giri di manutenzione, mi sembra che tutto vada bene. Avete già registrato i primi commenti da qualche cittadino? Sì, i commenti sono molto positivi perché sono rimasti molto contenti della qualità della fattura della bicicletta, non conoscevano la bicicletta a petrata assistita, sono così conto che è un ottimo strumento di locomozione, di svago, è un ottimo strumento poi per i professionisti da utilizzare per lavoro, perché il rapido non si suda, è poco costoso e poco oneroso e poi parliamoci chiaro, insomma con 25 euro all'anno si va in giro con una bicicletta che ha un valore superiore ai 1200 euro, 1400 euro.